E dell'emergenza di coronavirus si è parlato questa mattina in Prefettura Potenza in una riunione a cui hanno partecipato molti sindaci. Sancito un cambio di rotta, stop infatti alle ordinanze comunali in ordine sparso per sospendere le lezioni in presenza nelle scuole e così a Venosa come in tanti altri comuni si tornerà in aula al più presto. Manuela Mele. Bisogna agire chirurgicamente ma evitando le chiusure delle scuole soprattutto prolungate perché è comprensibile sospendere per un giorno o due le attività ai fini di sanificare i locali. Non si comprende più la lunga sospensione delle attività scolastiche. Parole inequivocabili. Basta provvedimenti in ordine sparso. Occorre concertare ogni decisione. La riunione nel Palazzo del Governo a Potenza. Presenti i sindaci di Pesco Pagano, Muro Lucano, Tramutola, Venosa, Moliterno e Marsico Vetere. Una riunione che ha già prodotto i suoi risultati. A Pesco Pagano dove la scuola non era ancora partita si entrerà in aula da lunedì, martedì al massimo. Appena sarà ultimato il monitoraggio sui contatti di una bimba risultata positiva. A Marsico Vetere si tornerà a scuola a partire da lunedì, tranne che nel plesso di Barricelle. Anche a Tramutola, dove l'attività scolastica in presenza era stata sospesa in tutto l'istituto comprensivo, si tornerà tra i banchi da lunedì. A Moliterno l'attività in presenza proseguirà regolarmente anche nella classe dell'istituto tecnico frequentato da una studentessa risultata positiva. Nessuna sospensione, spiegano sindaco e preside, perché la ragazza ha frequentato solo due giorni ed era già assente da sabato scorso e non ci sarebbero state situazioni a rischio. Comunque compagni di classe e docenti dovrebbero essere sottoposti a tampone. Novità anche per il Comune di Venosa, dove la didattica in presenza era stata sospesa sino al 14 ottobre in via precauzionale. Abbiamo convenuto che il periodo di sospensione sarà accorciato, nel senso che bisognerà dare la possibilità agli studenti di rientrare nelle aule scolastiche fra qualche giorno.